buongiorno benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 4 aprile vediamo i titoli fondamentali dei giornali riguardano tutti quanti bene o male il ministro dell'economia tria non si riesce a capire se il compromesso ma lo vedremo oggi pomeriggio sulla rimborsi e risparmiatori delle banchette così vengono chiamate le banche che sono saltate e negli anni scorsi insomma se questo compromesso è stato fatto o no ci sono alcuni giornali intesa sui borsi delle banche il della sera altri invece come il messaggero oggi in consiglio sarà battaglia infatti per di maio non è garantito il rimborso automatico che lui avrebbe gradito nei confronti tutti quanti lo vedremo oggi pomeriggio cosa succederà lì ci c'è un impasto di responsabilità dei funzionari norme europee insomma c'è un bel casino che non è così semplice ovviamente governare sempre un po più complicato che dichiarare in televisione nei talk show ma comunque resta la grande polemica con tria con il ministro dell'economia e anche qui ci sono due tipi di retroscena il primo retroscena scusate mi vede il ministro dell'economia in uscita dopo le europee e forse la stampa ne coglie l'aspetto più significativo cioè nei retroscene della stampa si sostiene che il posto del ministero dell'economia oggi tria è difeso da salvini beh dovrebbe essere assegnato dopo le europee a un ministro leghista giorgetti punto di domanda escluderei ma comunque questa è una delle ipotesi in questa maniera dopo le europee il partito che presumibilmente vincerà le europee cioè il movimento di salvini avrebbe una casella importante ministeri ministeriale in più cioè quello dell'economia direttamente affidata a lei e a quel punto però diventano cavoli perché le responsabilità di quello che avviene nel paese dipendono a quel punto dal movimento di salvini non lo vedo così semplice per lui accettarlo e poi è a testa bassa contro tria ci si butta bel pietro devo dire insomma come fanno quelli della verità quando attaccano qualcuno non guardano in faccia a nessuno anche forse un po esagerando perché mi sembra che l'attacco ad esempio e alla sua consigliera Adriana cerretelli giornalista del suo 24 ore in pensione che è pure nel consiglio di amministrazione della saras non mi sembra ancora essere un consigliere di amministrazione della saras una società petrolifera dei moratti ex dei moratti mi sembra che poi la venduta non so se ancora dei moratti sia come posso dire uno scandalo magari forse rispetto a quello che ha scritto nel passato non lo so ma il fatto che stia amministratore dell'economia insieme al consiglio di amministrazione della saras scusatevi non mi sembra una delle aggravanti mafiose più grave che dovremmo dare alle consulenti di tria la vera cosa che è avvenuta oggi la più significativa secondo me invece riguarda ancora torre maura cioè la periferia di roma scusatemi che ha visto la rivolta della città nei confronti dei rom ma non è esattamente così e soprattutto non c'è l'odio razziale di cui parla repubblica cos'è che titolo la repubblica ma insomma una cosa adesso ve lo dico veramente il nostro odio metropolitano no il nostro odio metropolitano in realtà quel genio del sindaco di roma laranci di notte 77 rom li ha fatti andare esattamente nel posto in cui prima c'erano gli immigrati che avevano creato un bel casino in quella periferia peraltro già degradate di roma e insomma qui ci sono due cose da dire la prima è quella che scrive sallusti cioè l'eccesso dei tolleranti cioè qua si parla di intolleranza peraltro in una popolazione come nota oggi il messaggero che aveva votato ai consiglio comunale alle ultime amministrative del 2016 per l'80 per cento per il movimento 5 stelle ma se quelli gli apportano dei notte gli immigrati poi gli apportano di notte i rom poi non gli mettono a posto le strade poi gli distruggono la città beh insomma potranno essere un po incazzati come direbbe marchese il grillo e se non lo sono loro chi lo è e però per repubblica è l'odio razziale no l'odio razziale fantastico oggi il pezzo di michele brambilla sul quotidiano nazionale nuovo direttore quotidiano nazionale uno che conosco bene perché ha fatto il vice direttore del giornale che stimo moltissimo schisse quel libro fantastico l'eschimo in redazione dice non si può liquidare semplicemente come odio razziale certo poi ci sono i fascisti ci sono gli intolleranti c'è quello che volete voi però insomma mi ricordano tanto quella mia collega ricorda brambilla straordinaria che aveva in redazione il poster del leon cavallo che è un grande centro sociale che ha occupato qua a milano da decenni una un'area pubblica privata e quando un giorno la beccai che telefonava alla polizia per far sgomberare vicino casa sua un altro centro sociale perché facevano troppi schiamazzi e non la facevano dormire ecco questo è il no l'italiano l'italiano diciamo che ci commenta sui giornali per cui è forte a parlare di odio razziale però non ci vive a torre maura lo scrive bene ovviamente oggi oltre che brambilla sallusti e ma l'altra cosa straordinaria è questa sindaca di roma è una cosa che mi fa venire il sangue al cervello sapete che cosa è riuscito a dire la sindaca di roma che ha assidurato il dirigente perché cos'è che ha detto è colpa degli uffici è colpa degli uffici cioè la raggi ha dato colpa agli uffici comunali come si chiama questo comportamento un comportamento vigliacco non ci sono altri termini un comportamento vigliacco e voi avete votata la raggi e vi sta bene perché non ci si può lamentare adesso a questo punto me la tenete per cui portano l'ottanta per cento di quella zona ha votato movimento 5 stelle io vorrei che se lo ricordassero le prossime elezioni che cos'è la raggi perché sai uno può anche commettere un errore cioè può anche far arrivare lì gli immigrati i rom perché vuole una politica di inclusione alla zingaretti alla sinistra ma poi non può dire l'hanno fatto i miei uffici io neanche lo sapevo ma che stai a fare là non sapevi degli incendi non sapevi dei rom non sapevi degli autobus non sapevi della metropolitana come dice travaglio è un complotto che è l'altra cosa fantastica su cui oggi torna marco travaglio sul fatto a nessuno non ho mai detto che è un complotto metto semplicemente le cose insieme come se ci fosse un complotto mondiale per far andare nella raggi per dimostrare che la raggi è peggio di quello che è c'è una totale inadeguata inadeguata vediamo che altro c'è altra cosa che noto oggi sono le 24 ore che bisogna stare attenti è la nuova class action tutti quanti voi sarete contenti grillini saranno contenti potremo difendere i nostri diritti sarà una specie di orrore giudiziario pensate un po voi potrete far parte della class action anche dopo la sentenza vi rendete conto che cosa vuol dire questo cioè l'incertezza della pena cioè la fine pena mai se uno vedi se è condannato anche sbagliando poi ci si possono aggiungere altre persone dopo la sentenza si allargano tutti coloro che vi possono fare causa intendo alle imprese ovviamente il sole 24 ore ne parla e buona fede è tutto contento e c'è un piccolo problema c'è un piccolissimo problema sapete nei confronti di chi non potete fare la class action la potete fare nei confronti delle cattive multinazionali delle imprese che inquinano dei petrolieri dei telefonici di porro di facebook potete fare la class action nei confronti di tutti tranne che di uno cioè di buona fede e dei suoi simili c'è della pubblica amministrazione no quando loro fanno le cazzate quando i magistrati sbagliano quando loro vi chiedono i documenti che non devono quando vi fanno pagare tasse che non devono quando vi fanno non vi danno i permessi che devono quando vi fanno perdere tempo loro no la class action nei confronti di tutti possono accedervi tutti possono farla tutti possono arrivare a tutti ma non nei confronti della pubblica amministrazione di cui siamo sempre cittadini vittime anzi possiamo dire la verità sudditi fantastico oggi sono solo 24 ore ci sono alcune criticità perché il coraggio di dire le cose dritte neanche il giore degli industriali sembra che ce l'abbia bravo il sultano del brunei finalmente si applica la legge della sciaria e cioè nel brunei c'è la lapidazione per gay e adulteri lapidazione per gay e adulteri allora beh quello è il sultano più ricco del mondo il posto più ricco del mondo ma quando c'è questo genere di norme sono esse compatibili con la nostra cultura o siamo noi razzisti a dire che questa è incompatibilità con la nostra cultura che non possiamo pensare che ci sia un paese in cui ci sia la lapidazione nei confronti dei gay ieri non è passata la norma che volevano fare movimento il momento di salvini e della meloni che si chiama castrazione chimica e qualcuno un po' buon tempone potrebbe mettere le stesse cose è la lapidazione del nuovo secolo è un po' diverso perché volontaria cioè se tu non vuoi andare in carcere puoi avere come pena alternativa una castrazione chimica io trovo che sia anche eccessiva cioè trovo che è un passo in più forse insomma bisogna pensarci più però sono laico su questo ma c'è un elemento di volontarietà insomma non si può definire anche se sono convinto che ci sarà un gramellini turno che ci dirà castrazione chimica come sultano del brunei anzi glielo consiglio ma insomma poi il solito bisticcio tra lega e movimento 5 stelle di maio dice la lega sta andando troppo a destra tutti contro ti avevo detto l'ultima cosa che vi segnalo è il pezzo di franco prodi sull'ambiente bellissimo oggi sul sul foglio in cui riesce il fratello di prodi a dire delle cose super giuste sul fatto sul catastrofismo ambientale e nell'ultimi tre mesi cioè il primo trimestre 2019 è stato un trimestre record per la borsa italiana che ha fatto segnare quasi un più 18 per cento boom della borsa italiana ma anche boom per esempio della borsa inglese che mi sembra abbia un'economia napoliti ancora più disastrata della nostra insomma le borse vanno per affari loro l'economia va male e le borse invece molto bene ci vediamo sul sito nicolaporro.it e tutti gli altri aggiornamenti nel pomeriggio ciao